Alla gruta di Massatiena, l'ipagolata congezione è apparsa per 28 volte a Bernardetti sugli orsi. Attraverso la sua umile messaggera, la Vergine Maria chiese ai sacerdoti che si costruisse in più una cappella e che si venisse in processione. E' proprio questo atto di fede, voluto dalla Madre di Dio, che stiamo per vivere a sé. Possiamo da questo momento accendere le nostre canzone, osservando il silenzio, per partecipare a questo momento di preghiera e di raccoglimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.